Ciao ragazzi, io sono Blu, lui è Arex, ciao ragazzi, e io, ciao ciao, sono il preside, e io sono Vastatore. Aspetta, che ho sentito prima, Blu? No, Blu, Blu, sempre tu in mezzo! Ehi, lascia stare a Blu, lascia stare a Blu, non si picchia nel corridoio, hai la conditazione? No, dai, Baldi mi ha lasciato un giorno libero, dai preside, non fate lo scemo, va bene, Baldi mi ha pure lasciato un giorno libero, ed era il giorno libero per prima, ehi, vabbè, ti fai male, E' solo questa cavola di Blu, che ha già pure liberato dal barco di rinosauri, non me ne importa nemmeno. Aia, e tu dici questa cavola di Blu, già pure liberato, è vero? Sì, ragazzi. Vastatore, come ti fai così di comportare a scuola? Ancora peggio, ma che ancora peggio, ma in punizione? Pure, pure se siamo amici, va in punizione lo stesso. Infatti. Vabbè. Aia. Ti comporti bene. Male. Allora ti metto la co-detezione. Aspetta, metterlo avanti qua per piacere. Metterlo qua, però non mi hai messo lì. Aia. Mettilo davanti ai miei occhi. L'ho messo. Allora, prima di tutto, dopo ti metto la co-detezione, però. Sì, allora, basta che faccio l'avanti, presa, spostiamo un po' con il cellulare, incontriamo bene, se vede Arex. Aia. Allora, andiamo a più così a Blu, allora. Aspetta, andatevi un attimo via dalla telecamera. Allora, devo fare io, il preside, una piccola. Che c'è? Hai la co-detezione? Cosa? Ma che cosa sei? Hai il preside a lui? Il preside. Hai la co-detezione? No, no, hai la co-detezione. Aia. Messo in punizione. Perfetto. Aia. Alex, mi ha morso. Chi? Alex, guarda qua. Non si morde il corridoio. Hai la co-detezione? No. E scappa, sei il fegato. Aia. Aiuto. No, no. Eccolo qua. Eccolo qua. E' la blu. E' la mia parata. No. No, eccomi qua. Sono... Mi sono... Va bene, non importa. Ti poserò un po'. Granny, tanto sta lontano da noi. Aspettate che sta blu, non si mette. Ok. Ok. Sta lontano da noi, Granny? Ma sei sicuro? Sì, sono sicurissimo. Ma è molto? Sì, sì, sì. Tanto, lontanissima. Molto? Ciao. No, ma sai? Ciao. Aspettate che mi sto per rompere. Porca trotta. Aia. Ti do la bastona. Pa. Non ci piga in corridoio, Granny. Hai la cotecazione? Granny, aspetta. Granny, Granny, aspetta. Che c'è? Lui ci ha salvato nel parco dei dinosauri. E allora? Che me ne importa? Allora. Allora. Già, cosa stai facendo? E allora? Allora. Ah, giusto, mi ricordo, ma mi avevate salvato anche a me, da che mi volevano intrappolare. Vabbè, ciao, ciao. Salto! Aio. Aia. Arex. Tu sei buono, ma diventi cattivo. E ti metto pure a te la cotecazione. No, e mi metto qua e salta. Aspetta, se hai il secondo il bastatore esce dalla cotecazione. Nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, zero. Ok, posso uscire. Aia. Stupida dei blu. Ma te ne ho sentito bene. Ho detto blu, sei bellissimo e ti metterò sempre per sempre. Aia. 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 Ti ho sentito. Ti ho sentito. A faccio arrivare lo Spider-Man. Due Spider-Man. Eh, ben due. Vabbè, andiamo via a farli asciugare. E sarà meglio. Vabbè, andiamo via a farli asciugare. Ui. Bum. Bum. Ish. Aia. Ish. Veneto qua, fermati qua. Fermati qua. Non ti voglio fare. Non ti voglio fare niente. Non ti conosco. Dici una cosa blu. Blu di odio. Cos'è detta? Blu di odio bene. Hai sentito blu di odio. Aia. Vabbè. Aspetta. Aspetta, ecco una cosa. Ah, era basta. Ma che basta. Ish. Aio. E mo' si che stai rompendo le scatole. Ish. Aia. Un momento, il disco GTA V vai a vedere. No, anzi, un momento, il disco GTA V vai a vedere. Se ti fai la cacca sotto da uno. Scopo scopo. Ma ti pareva. Che cacca sotto che sei. Tanto non ce l'abbiamo nemmeno la Play. Ignorante. Ma se io ce l'abbiamo. Salah. Però scaricate solo Minecraft, Fortnite, GTA V e come si chiama quell'altro? E Appescape 2. E vicino. E si, vicino e pure pangue. Non è tanto. Aia. Ma vuoi verci? Nessi una cosa a blu? Blu, grazie per averci salvato. No, dilla un'altra volta. Blu, grazie per averci salvato. Adesso un po' comodo. Arrabbiato. Aia. Ma inquadrati nella spazio, diamine di telecamera. Aia. E metti nella telecamera. E vabbè, così non ci vede il presidente. Ish, ahi. Aia. Ma... Abbastatore. Ma abbastatore. Perché mi devi fare così tanto male? Eh, quello scemo di Arex. Ish, ahi. Ish. Poi non è sottato a blu. Pa, 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 pa. Ish, ahi. Ish. Ah. Vabbè, non ci vede il povertone. Ma bucchiare Arex. Ah, ah. Aia, aia. Mi ha fatto male. Gabbè, non c'è mica in corda. Ah. Ok, ha di nuovo una po' detenzione. Ish, ish. Ish. Vai in collegio. Ragazzi, l'ho fatto morire a quella scema. Me lo sta bene, non tanto. Guarda cosa mi sono fatto. Oh no. Ora sono bene. Ora sto bene. Ho le chiavi del preside. Ah, me le ha rubate. Ish. Ah, mi ha preso. Eh, non ho pure le chiavi. Mi dobbiamo una paretta. Ish. Aia. Sono già nelle cabelle delle punizioni. Ok, bravo. Quanto lavoro devo aspettare? Sono pazzi. Ish. Ish. No, blu, blu, no. È stato la bambola assassina. Ma che... Tu, tu vuoi la bambola assassina. E che ne... Ah, ya. No, eh, la bambola assassina ha fatto male pure a me. Aspetta, vado a prendere una cosa, ragazzi. Aspetta, adesso. Sono stato io. Sono Jason. Oh, Jason. Eh, ragazzi, ciao. Come ciao? Aia. Sweep, sweep, sweep. Boom. Ai. Sweep. Ehi. Fai la prova. Dai al tuo scopo, non me l'ammazzo. C'è il preside alla terra che lo vedi. Sì, che lo vedo. E allora? Allora. Allora, ma stai dovremmo. Picchiava. Blu. E dai. E lo si riempia di botte. Bene. Allora, che è passato? Vieni, che lo riempio il borde. Tre, due, uno. Ah! Cosa hai fatto? Ish! Aia! Ish! 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 Aia! E basta! Aia, me lo dici? A chi lo dici sto, aia? E questo chi è? Ciao! Aspetta, che cosa è questa? Non toccare la telecamera, sennò ti ammazzo. Eh, ciao! Ciao! Questo chi è? Ma è Ginger! Come è Ginger? Buona telecamera! Bello! Oh! Che tele... Che tele... Quante fatte toglie! Che telecamera hai? Oh! Oltre, quel rumore! È solo stato io, mi è caduta la mia mazza per terra! Beh, avete fatto la scuola in più, come è stato? Wee! Wee! 중요한上 cuando mont kasih! Sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss terre fiamз newруш. Va bene, Morso c'è già! Concludiamo il video con Arex, Blue e poi gli altri e pure Lenny, Rannevastatore, Jason, e pure i Spider-Man, Ginger, Spider-Man, 173, il Preside, Bull, Sabling Time... Aspettate! Non mi scordate di me! Guarda schifo di Blue! Ancora! Tu non lo fare, saluto! Sei soltanto alti qua! Vabbè, cioè, cosa hai fatto? Se no hai rottuto la testa a Bullo! Se no faccio così! Vabbè, meglio che lo chiudiamo qua! Ciao ciao!